Bene, complimenti per essere arrivati fino a questo video. Qui oggi andremo a vedere il file di esercizio. Se avete le grant di livello di abbonamento sufficiente per poter scaricare l'allegato che trovate sotto, trovate il file con l'esercizio che adesso vi spiegherò e vi farò vedere che esercizi ci sono e troverete anche il file con la soluzione, così potrete confrontare quello che avete sviluppato voi con quello che effettivamente era da sviluppare. Se riuscite a risolvere tutti i nuovi esercizi, possiamo tranquillamente dirci insieme che avete consolidato i passaggi che abbiamo visto, i video che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Allora andiamo a vedere il file, è questo qua. Qui ci sono nove tab dove sul primo bisogna creare delle costanti e delle variabili, quindi si parte molto easy. Poi dobbiamo creare una gestione degli errori sul secondo, poi vediamo la parte visual basic come funziona. E qui adesso dobbiamo iniziare a interagire col foglio, quindi dobbiamo andare a eliminare le righe vuote, solo le righe vuote, e fermarci alla riga fine. Qui dobbiamo andare ad eliminare le colonne, quindi dobbiamo provare a eliminare le colonne, è una cosa un po' diversa, ok? E qui dobbiamo fare le righe e le colonne tutte e due, quindi doppio ciclo in questo caso, vediamo se riuscite a farlo. Qui invece quando troviamo la data oggi, ho messo delle celle con la formula data oggi, e dobbiamo andare a fare un incrementale, quindi qui scriveremo 1, 2, 3 e così via. Lo dovrò fare il visual basic in automatico, basandosi sull'informazione che c'è qui. Poi se andiamo a vedere l'esercizio 7, dobbiamo andare a verificare se i file interessati sono aggiornati, e se sono tutti li aggiorno, altrimenti no. Quindi qua andremo a testare più file esterni, vedremo la data di più file. Se tutti e tre sono con data oggi, significa che posso andare ad aggiornare il mio report, perché tutte le mie sorgenti sono disponibili. Qui faremo un esercizio con il ciclo do while, quindi finché non verrà superato un determinato orario, continuerò a ciclare. Ok, qui ho messo costante, ma in realtà è variabile. Accorreggiamo al volo. L'ultimo, dobbiamo semplicemente andare a inviare una email, quindi dobbiamo solo compilare alcune parti. Allora andiamo a vedere come funziona la parte di visual basic. Quando andate qui, vedete, adesso io sono sull'esercizio 9, ma partiamo direttamente dall'esercizio 1, trovate questi commenti, quindi al posto del commento dove trovate i puntini, dovete andare a inserire qualcosa, quindi costante, cartella di lavoro, qui dovete creare una costante che vi porta alla cartella di lavoro che state operando. E qui dovete inserire la costante con i sorgenti, che magari si trova sulla stessa cartella di lavoro, potete scriverla come volete. E poi sotto, vedete, qui vi dice cosa dovete fare, e qui anche vi dice cosa deve fare, quindi parte 2, dovete creare una funzione, quindi aprite una funzione e fate tutto quello che c'è scritto qua, quindi cercate il nome del file in automatico e inserite, seconda variabile, data oggi, tipo data, dovrà rilevare in automatico la data di sistema. Quindi qua la data di sistema, poi qui prendo solo la data e qui solo data ora di sistema, che ci sono i due sistemi. E poi si va avanti così, solo che adesso questa è molto scassa perché era proprio l'inizio. Poi la seconda, alcune cose le trovate compilate, ok? E quindi dovete sempre andare a compilare la parte che trovate commentata, sono tutti così. Se riuscite a commentare, a produrre tutto quanto, vedete che trovate diverse soluzioni qui, se riuscite a fare tutto, i miei più grandi complimenti perché avete imparato veramente bene tutto quanto. Ok, direi che con questo video è tutto, sapete che in descrizione c'è il file di esercizio e il file con la soluzione ovviamente per chi può scaricare questo file. Per tutti gli altri, abbonatevi così mi sosterrete e mi aiuterete a creare nuovi contenuti di questo tipo. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo alla prossima playlist. A presto, ciao! 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 Grazie a tutti.